ebbene sì ragazzi i protagonisti di questo video siete voi vi ho fatto delle domande sul mio profilo instagram dav93 quindi andate tutti a seguirmi perché riproporrò questo tipo di format diciamo ma soprattutto state sempre allerta perché ogni tanto faccio dei giveaway dei contest dove regalo magli abbigliamento e robe sull'inter quindi mi raccomando seguitemi che cosa abbiamo costruito oggi insieme ragazzi la nuova inter ma secondo le vostre risposte bene a tutti ragazzi sono dav e vi do il bemut in questo nuovo video oggi ragazzi andremo a vedere quale formazione i tifosi vogliono o perlomeno diciamo i miei fan vogliono sulla diciamo gazzetta a fine calciomercato quando ci sarà già la formazione dell'inter l'undi citolare da schierare ed è ragazzi tutto frutto di questa idea che mi è venuta in mente cioè tramite i sondaggi di instagram farvi delle domande e costruire così un po' ipoteticamente l'inter del 2020 adesso scorreranno anche le immagini relative alla prima storia che è dedicata ragazzi al modulo e in diciamo nella precisione più sul discorso della difesa perché con Conte si è parlato diciamo di difesa 3 allora volevo chiedere a voi se fosse la scelta migliore oppure avreste preferito una difesa 4 un po' spallettiana o comunque come abbiamo visto in questi ultimi anni di inter la risposta più predominante è stata naturalmente quella della difesa 3 per il 72% ragazzi e quindi ho ipotizzato questa formazione come vedete naturalmente i tre difensori sono quelli che già conosciamo da tantissimo tempo Andanovic super confermato e poi c'è un Izzo tra parentesi che poi vi svelerò il perché e lo scopriremo nel corso delle domande domanda successiva avendo un modulo del genere ragazzi qui è di fondamentale importanza capire quali saranno i terzini quindi o comunque gli esterni chiamiamoli così a sia a sinistra che a destra partiamo con la domanda numero 2 che è relativa alla fascia di sinistra e appunto i due ragazzi che erano in ballottaggio diciamo era Kolarov quindi vedere un nome nuovo all'interno della formazione oppure Persic quindi dare un'altra possibilità, crederci, vedere se Conte riesce a rivitalizzarlo e soprattutto se è idoneo a questo tipo di ruolo e voi per il 55% avete votato per Persic quindi una percentuale non altissima però superiore naturalmente al 50% e quindi ho inserito Persic a centrocampo a fianco naturalmente ai tre centrocampisti l'alternativa ho voluto aggiungere a Samoa proprio perché è un giocatore che già abbiamo all'interno della formazione e potrebbe essere appunto l'alternativa a Ivan dall'altra parte quindi domanda relativa invece alla fascia destra come già avete visto ma come in realtà non avete ancora diciamo visto proprio la domanda precisa prima di inserire informazione ed era tra Politano o D'Ambrosio quindi uno dei due giocatori che già è all'interno della formazione oppure un nuovo acquisto e per il 53% quindi in realtà per meno ancora rispetto alla domanda precedente c'è stata una votazione relativa ad un nuovo acquisto io ho inserito Pepe e poi scoprirete proprio per Izzo il motivo per il quale e come alternativa proprio Politano visto che in tantissimi comunque per il 47% hanno votato diciamo per quest'opzione quindi diciamo che è stato comunque molto molto equilibrato come ballottaggio passiamo adesso al reparto di centrocampo diciamo la zona più centrale quindi la spina dorsale della squadra e una delle domande relative a questa fascia di campo è riguarda la permanenza di Rajan Angolan deve rimanere? deve partire e per l'85% deve rimanere quindi super confermatissimo Rajan Angolan anche a mio parere e quindi l'abbiamo inserito all'interno della formazione l'altra domanda invece relativa a questa parte del centrocampo è in un ipotetico ritorno di Kovacic in nerazzurro vi piacerebbe? sì oppure un altro nome? per il 62% Kovacic rientra diciamo un po' nei canoni di quel giocatore che potrebbe essere sia il profilo internazionale sia dare quel qualcosa in più spostare un po' gli equilibri per il centrocampo dell'Inter che ne ha molto bisogno naturalmente bisogna tenere in considerazione anche le alternative Van de Beek, Barella eccetera che sono stati proprio consigliati da voi penultima domanda invece relativa al reparto offensivo Lautaro chi sarà il suo compagno di reparto? e qua c'è stato un un play in ragazzi di risposte la maggior parte veramente convintissima per Romelu Lukaku non soltanto lui in parecchia hanno anche risposto il Zeko quindi ho voluto inserirlo come alternativa ultima domanda sulla quale abbiamo fatto veramente un grandissimo risponso di risposte relativa a un difensore, un centrocampista e un attaccante che vorresti naturalmente all'interno della formazione c'è stato un tripudio di risposte ed sono proprio ragazzi quelle che avete visto prima nella formazione cioè quelle che appunto non erano citate all'interno delle domande da fare i vari Barella, i vari Van de Beek, i vari Pepe, i vari Izzo eccetera tutti questi sono la maggior parte delle risposte che ho trovato al sondaggio appunto e alle vostre idee di un'ipotetica inter volevo sapere che cosa ne pensavate perché adesso state vedendo la formazione per intera e devo dire ragazzi che è veramente eccezionale è molto difficile, naturalmente non stiamo facendo pronostici sulla formazione ma è soltanto un gusto personale di tutti i ragazzi che mi seguono su Instagram quindi se non lo avete ancora fatto fatelo ragazzi lo trovate in descrizione, Dav93 e che dire, tanta roba che cosa ne pensate voi qua sotto? fatemi sapere e magari commentate anche con una vostra ipotetica formazione e come avreste risposto ai sondaggi è una roba carina, spero che vi sia piaciuto mi è venuta in mente così e magari potrò riproporla anche in futuro magari per altri format, magari relativi al calcio mercato fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate un mi piace iscrivetevi al canale in descrizione trovate il sito di maglie ma soprattutto il mio profilo Instagram Dav93 e che dire, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornate io vi saluto bella ragazzi